allora ieri abbiamo visto come si facevano i cammini minimi come si trova il cammino minimo tra due nodi in un grafo semplice oggi ci vogliamo porre lo stesso problema ma invece di avere un grafo semplice abbiamo un grafo pesato e pesato per pesato intendo pesato sugli archi quindi oltre ad avere il nostro grafo gve abbiamo anche una funzione che ad ogni arco associa un certo peso un certo valore ok quindi abbiamo il nostro grafo ok che ne so ok 0 1 2 3 4 ok il problema sarà sempre che voglio trovare il percorso minimo tripota tra 0 che chiamiamo s e 4 che chiamiamo t però a sto giro ogni arco ha un certo valore ad esempio questo è che ne so 9 questo è 2 questo è 4 questo è 1 questo è anche lui 1 questo è 3 questo è 5 ok facciamo che gli indici dei nodi li cerchio ok no pessima idea li quadrato gli indici dei nodi di quadrato così almeno sappiamo distinguere cos'è un indice e cos'è un peso ok quello che vogliamo trovare è il percorso minimo da s a t dove però per il corso minimo questa volta non lo definiamo come il percorso che fa il minimo numero di passaggi per arrivare da s a t che in questo caso sarebbe se non ci fossero i pesi sarebbe 1 perché posso andare direttamente da s a t con questo arco invece lo definisco come quello la cui somma dei pesi è il minore possibile quindi in questo caso per esempio st mi costa 9 ok se faccio ad esempio 4 1 mi costa 5 credo che il migliore sia fare passare da 0 a 2 quindi mi costa 2 poi da 2 a 1 mi costa 1 e poi da 1 a 4 e mi costa ancora 1 quindi in totale mi costa 4 questo percorso qua mi costa 4 ed è l'ottimo mi pare quindi già vedete che nel caso pesato non è assolutamente detto che il percorso minimo pesato sia uguale al percorso minimo non pesato l'arco che va da 1 a 3 vero 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 c'è anche pesa 4 ok perfetto c'è anche pesa 4 ok quindi vedete subito che il percorso minimo non pesato non è detto che corrisponda quel percorso minimo pesato potrebbero essere totalmente diversi quello che vogliamo fare è trovare un algoritmo per trovare questo percorso minimo pesato ora vedremo un algoritmo e in particolare vedremo un strafamoso che è l'algoritmo algoritmo di Dijkstra Dijkstra è scritto Dijkstra si pronuncia Dijkstra è tipo olandese se non mi ricordo male o giù di lì insomma l'algoritmo di Dijkstra allora l'algoritmo di Dijkstra che appunto non trova il percorso minimo in un grafo pesato la cosa importante è che funziona solamente se i pesi degli archi sono positivi quindi prima primissima cosa possiamo applicare l'algoritmo di Dijkstra solamente se i pesi sono positivi vedremo poi perché nel funzionamento dell'algoritmo e in generale in realtà trovare il percorso minimo nel caso i pesi possano essere positivi anche negativi è molto più difficile e è proprio esponenzialmente più difficile e quindi nel caso generale e quindi non si riesce veramente e infatti l'algoritmo di Dijkstra ma anche altri algoritmi che fanno questo lavoro di trovare il percorso minimo in un grafo pesato hanno bisogno dell'assunzione che i grafi i pesi degli archi siano positivi in realtà poi anche Dijkstra non gli serve proprio strettamente questa cosa questa qua è una condizione sufficiente ma in realtà non è necessario sufficiente solo sufficiente si può fare un pochino di classe più generica però per ora non ci restringiamo che gli archi debbano essere positivi ok anche perché per esempio una cosa che si può vedere è che se abbiamo un grafo così ok questo è S e questo è T e vi chiedo tipo questo è meno 1 e questo è 1 ok e vi chiedo avanti indietro avanti indietro avanti indietro una marea di volte perché tanto ogni volta sommiamo un meno 1 quindi questa cosa va verso meno infinito e poi alla fine facciamo una mossa in avanti e paghiamo 1 quindi non diventa neanche più chiarissimo cosa vuol dire percorso minimo quando abbiamo dei pesi negativi ok come funziona l'algoritmo di Dijkstra allora dobbiamo partire dai concetti che ci siamo detti ieri per trovare i percorsi minimi in un grafo semplice ovvero ora disegniamo lo stesso grafo vediamo se ce la faccio che ci manca questo esegniamo lo stesso grafo come funzionava ieri ieri abbiamo detto che l'algoritmo che usa BFS va a livelli ovvero la sorgente è nei nodi che sono 0 da s ovviamente dell'unico e dopodiché tutti i vicini di s quindi lui lui e lui ok quindi questa zona qua sono quelli che distano 1 e poi tutti i vicini di questi qua sono quelli che distano 2 che quindi solamente a questo modo qua questo era il principio di funzionamento del l'algoritmo di percorsi minimi in un grafo semplice qual è il concetto fondamentale qua è che essendo che prima di visitare un qualunque nodo che ha distanza 1 ad esempio visitiamo tutti quelli che hanno distanza 0 beh allora sicuramente tutti quelli che hanno distanza 1 li becchiamo come vicini di quelli che hanno distanza 0 perché se un nodo ha distanza minima 1 vuol dire che lo possiamo raggiungere da un nodo che ha distanza minima 0 quindi se prima visitiamo tutti quelli che hanno distanza 0 veramente che hanno veramente distanza minima 0 poi visitiamo tutti quelli che hanno veramente distanza minima 1 e così via ogni volta il vicinato diciamo in uscita di quel fronte saranno quelli che hanno distanza minima 1 in più della distanza minima che aveva un certo fronte quindi il fronte di 1 se prendiamo tutti quanti vicini che non abbiamo ancora visitato beh saranno esattamente quelli del fronte 2 e così via questo era il concetto di trovare percorsi minimi in un grafo semplice ora il problema è che qua non abbiamo più non possiamo più dire è questo qua è un passo perché sono non è un passo perché in questa metafora dei pesi sono tentati 9 passi per fare questa cosa qua beh allora una prima idea che ci potrebbe venire è benissimo io ho S ho T so che tra S e T per esempio qua c'è un un arco che pesa 9 allora io creo questo grafo farlocco dove aggiungo 8 nodi in mezzo 1 2 3 4 5 6 e vabbè facciamo finta che siano 8 insomma se io faccio questa cosa qua ok e la faccio in modo che quindi la somma degli archi faccia 9 ok il numero di passi di questa cosa faccia 9 beh io ho appena trasformato questo arco da un arco pesato a tanti archi di un grafo semplice ehm cosa possiamo fare beh se noi facciamo il grafo se noi esediamo questo grafo S e T sappiamo che c'è un arco ehm che pesa 9 tra S e T noi quello che facciamo è che invece di mettere quell'arco che pesa 9 mettiamo tanti nodi farlocchi e tanti archetti farlocchi che pesano tutti quanti uno come cioè nel senso come un normalissimo grafo semplice ok e quello che abbiamo fatto è stato in realtà sostituire il ehm questo arco da 9 con tanti archetti in modo che la somma faccia esattamente 9 e che questo sia l'unico sostituto diciamo di questo arco da 9 tra S e T quindi poi ad esempio se questo è il nodo 2 ok questo è il nodo 2 questo è il nodo originale 0 cosa posso fare qua c'è un arco che doveva pesare 2 allora metto un nodo farlocchi in mezzo così ci metto due archi di grafo semplice qua era 4 quindi ci metto 3 nodi farlocchi così questo è 1 qua posso collegare direttamente e così via insomma quindi anche qua ci sarà un collegamento diretto e così andare ma quindi ma quindi siete d'accordo che fare adesso il percorso minimo su questo grafo qua su questo grafo che abbiamo creato in questo modo fare i percorsi minimi da grafo semplice ci dà esattamente la risposta che stiamo cercando perché adesso il ragionamento dei fronti funziona ovviamente perché tutti quanti gli archi pesano 1 ok fare questa trasformazione ci permette di usare l'algoritmo per il percorso minimo del grafo semplice nel caso del grafo pesato ok fino a qua ci siamo lo prendo come si ok la domanda è quanto è efficiente fare questa cosa? se noi abbiamo questo grafo pesato se vogliamo trovare i percorsi minimi in questo modo quanto tempo ci mettiamo? domanda per voi Stefano C allora quant'era la complessità del cammino minimo normale? la complessità del cammino minimo normale è se chiamiamo n l'ordine del grafo e m il numero di archi avevamo detto che era n più m allora qua l'ordine sarà sarà uguale a l'ordine più tutti i pesi tutti i pesi la somma di tutti i pesi degli archi meno m non sbaglio allora chiamiamo intanto chiamiamo k ok la somma per tutti quanti gli archi ok di f di e quindi la somma dei pesi degli archi chiamiamola k e quindi il nuovo ordine di e quindi il nuovo ordine di questo grafo è n più k meno m ok che è uno grande di n più k sì ok quindi l'ordine di v di questo qua abbiamo detto che è uno grande di n più k perfetto e dall'altra parte è sempre no non è sempre non è sempre e k e m più k direi m più k ok perfetto quindi quanto costerà adesso fare questo algoritmo costerà o grande di n più k più m più k quindi sarà o grande di n più m più k perché sarebbe più 2k ma lo grande si mangia le costanti quindi ok quindi in realtà questo algoritmo funziona ma ci sono due ma uno che lo stiamo vedendo adesso che la complessità aumenta e potenzialmente aumenta di veramente tanto perché abbiamo un fattore k adesso in più e questo fattore k è la somma dei pesi degli archi e la somma dei pesi degli archi può essere anche miliardi quindi molto spesso nei problemi di grafi i pesi degli archi possono arrivare anche un miliardo volendo quindi fare questa cosa ci può costare veramente tanto questo è il primo problema il secondo problema è possiamo sempre farla questa trasformazione possiamo sempre fare la trasformazione da grafo pesato a questo grafo qua se quest'arco invece di pesare 9 quindi se quest'arco invece di pesare 9 pesasse radice di 2 potrei farla questa trasformazione? beh non con 1 ovviamente non con 1 ma c'è un qualche numero con cui posso farla? beh poi dovrei fare tutti gli archi anche con quel numero quindi non andrebbe bene cioè il problema è questo allora se qua invece di radice di 2 avessi scritto che ne so 1.5 ok beh allora qua ancora si poteva fare perché cosa fai? invece di fare questi archi da 1 li fai da 0.5 per dire così 2 diventano 4 archi 1 diventano 2 archi 1.5 diventano 3 archi e quindi con se avessi avuto un 1.5 ma in realtà se avessi avuto un qualunque numero razionale quindi anche che ne so 33 50 settesimi ok posso sempre farlo posso sempre trovare un numero abbastanza piccolo tipo che ne so un 50 settesimo in questo caso per cui posso fare questa trasformazione ovviamente mi aumentano il numero di archi cioè mi aumenta k perché poi sarà non più k ma k per il il denominatore dell'unità di base quindi mi aumenta ancora di più però posso farlo il problema è che io ho detto che sono positivi non ho detto che sono razionali potrebbe esserci anche un numero irrazionale potrebbe avere questo arco che pesa radice di 2 questo arco che pesa pi greco ok e così via non è detto che debbano essere razionali questi numeri e questi qua cioè il fatto che possiamo fare quella trasformazione usando come base uno fratto qualcosa la possiamo fare se i numeri sono razionali sono tutti razionali però la radice di 2 come immagino saprete è un numero irrazionale ovvero non esiste non esistono un a e b appartenenti a n tale che a fratto b è uguale a radice di 2 questo vuol dire essere irrazionale ovvero non esiste una frazione di due numeri interi che da radice di 2 e quindi non possiamo fare il trick del scomporlo in pezzettini piccoli domanda qualcuno di voi non sa perché non mi ricordo quando si fanno queste cose alle superiori qualcuno di voi non sapeva che radice di 2 è un numero irrazionale? o non sapeva cosa vuol dire irrazionale? ok Stefano S mi confermi che sapevi cosa è un numero irrazionale? si si mi ricordo se in terzo quest'anno vanno perfetto ok quindi questo metodo non solo è lento ma non funziona neanche sempre funziona solo se tutti i pesi degli archi sono interi positivi se sono, perdono, numeri positivi irrazionali se sono irrazionali non funziona allora dobbiamo fare qualcosa di meglio dobbiamo cercare di migliorare la situazione allora cerchiamo di sfruttare le idee di questa trasformazione e di trovare un altro modo di applicarle magari sia in modo più veloce che in modo più generico qual è l'idea qua? l'idea è che se noi facciamo i fronti in questo grafo nuovo ok se noi facciamo i fronti qua cosa succederà? che avremo questo che è il fronte 0 questo sarà il fronte 1 ok e il primo nodo che ci becchiamo il primo nodo reale che ci becchiamo in un fronte sarà il nodo 2 perché è a distanza 2 è nel fronte di ordine 2 quindi in un qualche senso ovviamente mettiamo che adesso appunto i pesi sono naturali quindi questo qua è ancora 9 questo qua è ancora 4 avendo detto che la trasformazione funzionava ok e quello che sta succedendo è che de facto il primo nodo che visitiamo sarà quello dell'arco del fronte degli zeri che pesa di meno che sarà quindi il 2 perché ovviamente se noi se vediamo su questa trasformazione se andiamo avanti di fronte in fronte beh ovviamente il primo fronte che beccherà un nodo del grafo originale quindi non un nodo farlocco che abbiamo aggiunto ma un nodo del grafo originale sarà l'arco che ha peso minore ma allora ma allora invece di fare tutta questa trasformazione barbina la cosa che ci potrebbe venire in mente è ma se invece di se riuscissimo a dire chi è tra i vicini quello che ha una distanza minore ok se riuscissimo a dire guarda questi sono i vicini se riuscissimo a prendere velocemente quello che è a distanza minore saremmo a cavallo perché lui sarà il protagonista del prossimo fronte ok noi prima per l'algoritmo questo qua per quello sul grafo semplice usavamo una coda ok perché abbiamo visto che in coda si mettono nell'ordine di fronte automaticamente noi vorremmo avere un'altra qualche tipo di coda qua dentro che però invece di lavorare nell'ordine di visita cioè nel senso invece di lavorare nel chi ho visto prima perché chi ho visto prima è un modo che funziona per generare i fronti giusti nel grafo semplice vorremmo che invece di ragionare su quello ragionasse su chi è quello che ha distanza minore in questo momento chi è il prossimo fronte e il prossimo fronte è quello che è distanza minore e la domanda che vi faccio è ma ce l'abbiamo una struttura dati che fa esattamente questo che ci dice di un insieme chi è il minore e ci permette di aggiungere elementi ci permette di levare il minore la min priority queue la min priority queue è esattamente una struttura dati che fa quello che ho appena descritto ovvero se noi poi serve qualche aggiustamento che adesso vediamo ma fondamentalmente se noi facciamo lo stesso algoritmo identico che abbiamo usato per trovare i percorsi minimi su un grafo semplice ma invece di usare una queue usiamo una min priority queue che è ordinata in base alla distanza ok in base alla distanza che abbiamo raggiunto beh funziona tutto uguale lo stesso cioè segue gli stessi concetti va di fronte in fronte la prima volta che visitiamo un certo nodo sarà col fronte minore e così via e quindi cioè invece di invece di basarci su quanti archi abbiamo abbiamo su quanti archi abbiamo avanzato per raggiungere un certo nodo ok che implicitamente era quello che ci faceva già la queue ed è per questo che abbiamo usato la queue che era quello che già implicitamente faceva se noi invece di usare quindi implicitamente l'informazione di quanti archi abbiamo passato per arrivare ad un certo punto usiamo esplicitamente l'informazione di distanza ok e per beccare qual è il minimo però a questo punto ci serve una cosa che ci dica qual è il minimo perché qua nella queue era implicito chi era il minimo è il primo nella coda invece adesso non è più implicito è il minimo in questa coda però abbiamo la min priority queue che il pop fa esattamente questo ci dice chi è il minimo nella coda ok se usiamo come valori le distanze perfetto se usiamo come valori le distanze abbiamo fatto abbiamo implementato lo stesso algoritmo ok abbiamo fatto una variazione dello stesso algoritmo invece di usare implicitamente il numero di passi che abbiamo fatto nella coda usiamo esplicitamente le distanze e facciamo la stessa identica cosa ok vediamo come funziona e vediamo le accortezze che bisogna avere quindi anzi facciamo proprio un bel erase ok quello che vogliamo fare è quindi scrivere adesso l'algoritmo ora farò un mini abuso di notazione anzi senza abuso di notazione perché poi quello che si fa è veramente anche nel codice diciamo che se io ho un insieme o una coppia ok 3 2 e che ne so 5 6 se io ho una coppia so più coppie di numeri ok e voglio determinare chi è il minore fra due coppie quindi è minore 3 2 o è minore 5 6 quello che faccio è che prima confronto il primo elemento se il primo elemento è diverso allora uso il loro confronto per determinare chi è minore se il loro confronto se invece sono uguali allora confronto il secondo elemento e così via se ce ne fosse più di uno ok quindi 3 2 è minore di 5 6 3 4 è maggiore di 3 2 per dire 7 1 è minore di 1 1 no non è vero non è assolutamente vero minore di 8 1 ok sto solo dicendo che se abbiamo una coppia di numeri ok tipo 3 2 5 6 3 4 e 3 2 per dire abbiamo una coppia di numeri sto dicendo che se vogliamo definire un confronto tra due coppie di numeri ok io ti do due coppie di numeri a e b e c e d ok e ti chiedo qual è la minore di queste due coppie di numeri ok io ti sto dicendo che definiamo il minore tra due coppie di numeri come prima confrontiamo i primi elementi della coppia ok se sono uguali se sono diversi allora usiamo loro per determinare qual è la coppia minore facciamo il minore tra questi due numeri se sono uguali usiamo invece il secondo elemento ok cioè lo stesso sto definendo l'operatore di confronto sulle coppie ovviamente sono uguali solamente se entrambi i numeri sono uguali cioè tipo che ne so 5 6 uguale a 5 6 ovviamente ok altrimenti confrontiamo il primo se c'è già un minore o un maggiore ok abbiamo trovato altrimenti confrontiamo il secondo tipo in questo caso tra i tre sono uguali allora vince il secondo se anche il secondo sono uguali allora sono uguali ok mi serviva solo dare cosa vuol dire confrontare due coppie perché ci servirà ok detto ciò come funziona l'algoritmo di extra abbiamo una min priority q che la chiamiamo q ok invece di avere una q che chiamiamo q abbiamo una min priority q che chiamiamo q cosa abbiamo poi avremo il vettore dei visitati solito ok quindi pam 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 che è inizialmente inizializzato false e abbiamo il vettore delle distanze il vettore delle distanze che è inizializzato a undefined ci può essere anche garbage dentro non è importante può non essere inizializzato anche ok ora vogliamo ricreare l'algoritmo vogliamo ricreare l'algoritmo per le distanze minime come se fosse quello del grafo semplice però utilizzando la min priority q fondamentalmente e dovremmo fare un accorgimento fondamentalmente dovremmo fare un micro accorgimento ad una certa allora cosa facciamo la prima cosa che facevamo era fare il push dell'elemento iniziale e l'inizializzazione di b e d per l'elemento iniziale allora quindi diciamo che b d s che sarà la nostra sorgente è visitato perché abbiamo detto che facciamo l'aggiornamento subito prima di visitarlo ok lo visiteremo quando entriremo in coda facciamo l'aggiornamento subito prima di entrare in coda quindi poi diciamo che la distanza di s sarà 0 per forza perché la distanza tra s e s è sempre 0 anche nel grafo pesato e poi facciamo q push ora q push nel caso di prima quello che facevamo era fare la push dell'indice del nodo che stiamo visitando quindi se fosse stato il caso semplice quando facevo q push di s in questo caso però a noi non ci interessa ordinare per l'indice ordinare per l'indice non ha neanche troppo senso noi quello che vogliamo fare è ordinare per distanza noi quello che vogliamo fare è ordinare per distanza ma allora ma allora quello che dobbiamo fare è fare q push in questo caso sarebbe di 0 ok cioè della distanza di s se vogliamo pushare s il problema è che così ci perdiamo l'informazione del di che in che nodo stiamo andando ma allora una cosa che possiamo fare è invece di fare push di un singolo elemento possiamo fare push della coppia di elementi 0 s ovvero mettiamo come primo elemento la distanza e come secondo elemento il nodo in cui stiamo andando ok in questo modo quello che stiamo facendo è che la min priority q ordinerà prima il primo elemento ok e in questo modo li ordinerà per distanza e non per indice però abbiamo ancora l'informazione di qual è l'indice in cui stiamo andando in questo modo quindi qua quello che vogliamo fare è una q push di 0 s ovvero della se vogliamo essere un pochino più rigorosi sarebbe q push di doppia tonda 0 s per lo pseudocodice che stiamo scrivendo perché stiamo facendo q push di cosa della coppia 0 s ok questo è il motivo della manfrina sull'operatore coppia lo sposto di qua l'inizializzazione perché poi così scrivo l'algoritmo di là ok come funziona poi diciamo esattamente come prima finché c'è qualcosa in coda quindi finché qsites è maggiore di 0 ok mentre qsites è maggiore di 0 cosa facciamo è come prima prendiamo il l'elemento ovviamente a sto punto quando facciamo la pop non prenderemo un elemento ma ne prenderemo due perché ora sono coppie di elementi quindi non prenderemo un elemento ma prenderemo una coppia di elementi chiamiamola che ne so chiamiamola facciamo che chiamiamola la distanza x e il vertice v ok xv sarà q.pop ok per ora proviamo a scrivere la cosa semplice poi vediamo se c'è qualcosa che non va ci sarà qualcosa che non va ma lo aggiustiamo dopo cosa faremo poi quello che faremo poi è che faremo for for i v nel vicinato di v ok per i v nel vicinato di v e attenzione che v a questo punto è il secondo elemento della coppia perché il secondo elemento della coppia è il nodo mentre il primo è la distanza per raggiungere quel nodo quindi for v nel vicinato di v quello che faremo normalmente è che diremmo che se non l'abbiamo ancora visitato ok se non l'abbiamo ancora visitato v allora faremmo un q.push di cosa a questo punto beh sarebbe la coppia non più ovviamente il secondo elemento della coppia dovrebbe essere v perché è dove stiamo andando ok ma il primo elemento cosa dovrà essere beh dovrà essere non più la distanza dove eravamo arrivati fino ad adesso più 1 che era quello che implicitamente avevamo nella coda ma dovrà essere x più adesso qua perché la notazione matematichese è molto peggio di non puoi scrivere il codice ma per essere precisi sarebbe f di x più f di vv per dire l'arco che va da v da v ovvero è x che è quanto abbiamo pagato finora quanto abbiamo pagato per raggiungere questo punto più il costo la distanza tra v e v che abbiamo chiamato f se vi ricordavate all'inizio di questa lezione f è la distanza tra due nodi di un arco quindi tra due nodi ovvero f v ok quindi l'impiattamento generale fondamentalmente sarà questo ovvero quello che vogliamo fare è prendere il primo nodo iterare i suoi vicini e poi mettere in coda il nella coda di priorità se non abbiamo già visitato il i nodi del vicinato mettendogli come peso come distanza la distanza che ci abbiamo messo a raggiungere il nodo v ok più la distanza del nodo che va da v a v mi sembra abbastanza ragionevole questa è l'infermiettura generale però questa cosa così come l'aveva scritta ancora non funziona perché non funziona beh dobbiamo fare un po' di aggiustamenti prima di tutto non aggiorniamo non aggiorniamo mai b e d quindi qualcosa dobbiamo farlo in questo caso cioè non aggiorniamo mai chi sono i visitati e non aggiorniamo mai le distanze quindi c'è qualcosa che non va e e poi non suona benissimo questo se non l'abbiamo già visitato c'è qualcosa che non va perché se noi abbiamo ad esempio una cosa del genere ok mettiamo questo qua e tre questo è uno questo è uno per dire questa è la sorgente cosa succede che se noi mettiamo a priori che le visitiamo quindi mettiamo che S è stato visitato prima di visitarlo come era la convenzione per prima poi quello che succederà è che visiteremo questo ok cioè lui metterà visitato questo e questo poi andremo in questo nodo qua ma qua lui non aggiungerà questo arco che costa uno perché questo l'avremmo già segnato come visitato perché l'avrebbe già segnato S come visitato se mettiamo la flag di visitato prima di visitarlo veramente come abbiamo fatto per il grafo semplice e quindi nel caso del grafo pesato questa cosa di mettere prima non funziona veramente quello che dobbiamo fare è che dobbiamo mettere dopo dobbiamo ritornare alle origini prima abbiamo fatto questa semplificazione del metterlo prima perché era più comodo per il grafo semplice per il grafo pesato per il grafo semplice invece dovremo aggiornare l'informazione di qual è la distanza verso un nodo e se l'abbiamo già visitato o no dopo allora cosa facciamo beh intanto non facciamo questa inizializzazione qua ok mettiamo già mettiamo solamente il push nella coda vi dirò un'altra cosa ma non possiamo visto che ora questo qua è un numero perché saranno dei numeri questi qua fondamentalmente reali non possiamo unire il vettore dei dei visitati e delle distanze nello specifico quello che potremmo fare è che invece di utilizzare due vettori cioè dei visitati e delle distanze potremmo usare un unico vettore ok di sempre di lunghezza tanto quanti sono i nodi e invece di inizializzarlo a false questi qua sono numeri reali in realtà quindi sarebbe 0 1 qualche valore lo inizializziamo a infinito quindi inizialmente quello che diciamo è che la distanza dalla sorgente a ogni nodo è infinito ovviamente poi in informatica infinito non esiste quello che si fa di solito è che si mette un valore che è talmente alto che è praticamente infinito di solito si mette che ne so se l'arco più pesante pesa un miliardo metti un miliardo di miliardi e sei a posto fondamentalmente metti un numero veramente molto molto grande non c'è mai infinito però ora che stiamo ragionando in matematichese diciamo che è infinito ok allora perché questa cosa va bene lo stesso perché non aver visitato un nodo in questo modo possiamo dire che è equivalente a dire che la distanza minima a quel nodo che abbiamo trovato finora è infinita perché vuol dire che non abbiamo trovato nessun percorso quindi non l'abbiamo mai visitato ok quando diventerà un numero finito quindi un numero minore di infinito allora quella sarà la distanza minima e implicitamente ci sta dicendo anche che l'abbiamo visitato tra l'altro questa ottimizzazione se si vuole usare un vettore invece di due si può fare anche nel caso del grafo semplice volendo ok allora adesso in luce di questo fatto vediamo come cambia il nostro algoritmo quello che abbiamo detto quindi che vogliamo fare l'aggiornamento quando lo visitiamo e non prima di visitarlo quindi abbiamo fatto inizializzato d abbiamo fatto la q push iniziale e ora siamo nel ciclo cosa facciamo? beh a sto punto dobbiamo controllare che il valore con cui stiamo visitando v è migliore della distanza minima ovvero che in questo caso che sia migliore di infinito allora cosa facciamo? perché se no se stiamo visitando un nodo con una distanza maggiore della migliore che aveva trovato finora è stupido dobbiamo farlo con la minore che ha trovato allora cosa diciamo? che se x è maggiore uguale di d d d d v allora continuo cosa vuol dire? se noi siamo arrivati in un certo nodo mettiamo che noi avevamo trovato facciamo sempre l'esempietto su questo grafo qua noi mettiamo che abbiamo detto che d di questo nodo d di questo nodo è 3 ok abbiamo trovato un qualche percorso che pesa 3 ora se troviamo successivamente un percorso che pesa 1 che pesa 2 allora ci va benissimo aggiornare quella della distanza minima di questo nodo perché abbiamo trovato qualcosa di migliore ma altrimenti se ad esempio questa la distanza minima che abbiamo trovato era 2 quindi mettiamo che abbiamo trovato prima questa e poi arriviamo con 3 e poi riusciamo a trovare un percorso invece che arriva con 3 allora non dobbiamo aggiornarla perché la staremmo peggiorando e questi qua sono i percorsi minimi e quindi vogliamo migliorarli non peggiorarli quindi prima cosa da fare è che se la distanza che abbiamo trovato è maggiore della distanza minima che avevamo trovato precedentemente che inizialmente è infinito quindi questa cosa sarà falsa ovviamente quando ci andiamo la prima volta allora continuo ovvero skip a tutto quello che stiamo a prescrivere e vai al prossimo ciclo ok a questo punto cosa possiamo fare beh possiamo aggiornare ora che sappiamo che è migliore possiamo aggiornare la distanza minima di v e diciamo che è x perché è quello con cui siamo arrivati quindi quello che succederà all'inizio è che noi estrarremo 0s dalla min priority q e aggiorneremo la distanza della sorgente a 0 perché questo qua è la force ovviamente perché 0 non è maggiore o uguale di infinito e quindi ddv quindi dds diventerà 0 ok una volta che abbiamo aggiornato vogliamo scorrere tutti quanti i vicini quindi for w in n d v che sono i vicini cosa dico? beh a questo punto il controllo del visitato non visitato in cosa si traduce? si traduce in se diamo prima un nome va allora sappiamo quindi che la distanza che avrà la distanza che riusciamo a ottenere andando a v passando da v sarà x più f di v v perché beh se abbiamo raggiunto v con distanza x ok siamo riusciti ad arrivare al nodo v partendo da s e magari non è un percorso dritto ma se abbiamo preso qualche nodo ci abbiamo messo x ok se adesso dobbiamo andare a v beh sicuramente esiste un percorso che costa x più f di v v dove f di v è il costo dell'arco tra v e v allora diamo un nome a questa quantità chiamiamola y ok y cosa sarà quindi x più f di v ok questo è quanto quanto è distante raggiungere il nodo v dalla sorgente passando per v ok e cosa diciamo adesso beh che se y è minore della distanza minima che abbiamo trovato finora rispetto a v ok le distanze minima abbiamo trovato finora per arrivare da s a v allora cosa faccio allora in questo caso posso fare q.push di y v e dovrebbe essere tutto un attimo che ora metto a posto vediamo se riesco a farci stare questo qua anche se non credo ok no è una causa persa è una causa persa ovviamente prima ho fatto danni vero ok ovviamente prima c'è l'inizializzazione che è quella a destra e poi c'è il codice che è quello a sinistra questo è il corpo questa è l'inizializzazione allora analizziamo un attimo cosa fa questo qua poi magari lo simuliamo anche vediamo un po' cosa fa l'algoritmo di Dijkstra quindi qual è il concetto? quello che vogliamo fare è sempre la antifacciamo un grafo ad esempio così lo simuliamo proprio quindi così 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 facciamo c'è un altro nodo qua ok così e così ok questo è S questo è T 0 1 2 3 4 ok e diamo dei pesi agli archi quindi facciamo questo peso è 1 facciamo che questo peso è 2 facciamo che questo peso è 8 facciamo che questo peso è 7 questo è 2 questo è un altro 1 e questo è un 4 e dovrei averli pesati tutti vero? questi questi sono gli indici dei nodi e gli altri sono i pesi degli archi benissimo vediamo cosa succede quello che succederà è che andremo ancora una volta per livelli ovviamente adesso i livelli si costruiranno in base alle distanze minime pesate quindi ci sarà livello 0 poi si costruirà il livello 1 e poi quello dopo che si costruirà sarà il livello 3 ok il 2 viene saltato perché non esiste un fronte di distanza 2 quindi in qualche modo schipperemo direttamente al fronte di distanza 3 ok proviamo a vedere cosa succede allora con cosa partiamo? partiamo quindi con distanza inizializzata è infinito per tutti quindi facciamo che lo metto qua e sarà lungo quanto abbiamo 5 nodi quindi 1 2 3 4 ok ho fatto troppo 1 2 3 4 se non ci metto niente dentro vuol dire che è infinito e poi avremo la nostra cosa di priorità Q ovviamente non mi metto a fare l'alberello perché sennò non usciamo quindi saranno numeri l'infusa ogni volta prendiamo il minore a occhio però ovviamente sappiamo che Q è una min priority Q quindi possiamo implementarla come un binary IP ok cosa succede? quindi iniziamo e mettiamo dentro la coppia 0s ok quindi inizializzato infinito D e poi Q ha dentro solo 0s andiamo nel ciclo Q è vuoto? no estraiamo 0s 0 è è maggiore o uguale di infinito? no allora non facciamo continuo poi inizializziamo facciamo che quindi abbiamo 0 1 2 3 4 quindi mettiamo 1 0 qua dentro perché era 0 di x quindi D di s uguale x quindi D di 0 in questo caso in realtà ci abbiamo messo 0 perché è il nodo 0 il nodo s ok D di 0 uguale 0 e l'abbiamo fatto ora per tutti i vicini quindi 1 e 2 sono i vicini mettiamo in coda ci capiamo intanto la y quindi la y cosa sarà? 0 quindi x è 0 più l'arco quindi 1 da questa parte e 4 da questa se è minore della distanza e sono entrambi minori perché le distanze sono ancora infinite sia per 1 che per 2 facciamo push di quella distanza e dove stiamo andando quindi ci metteremo dentro adesso qua lo cancello perché sennò non ho uno spazio ci metteremo ci metteremo dentro le coppie che coppie ci mettiamo dentro? 1 1 e 4 2 ok fino a qua mi seguite? chiedo agli Stefani mi date un sì? sì ok allora e con questo abbiamo fatto il primo ciclo di questo while ora cosa succederà? che quando rientriamo ovviamente rientriamo perché ci sono ancora degli elementi in coda faremo qpop qpop farà il pop di questa coppia perché la coppia è minore 1 1 è minore di 4 2 allora cosa stiamo dicendo praticamente? siamo qua e ci siamo arrivati con una distanza 1 bene cosa facciamo allora? 1 è maggiore o uguale di infinito? no allora niente continuo d di 1 uguale 1 la distanza per arrivare a 1 minima è 1 ed è vero prendiamo tutti quanti i vicini cosa abbiamo? abbiamo come vicini 0 2 e 4 ok e quindi cosa diciamo? calcoliamo le y le y adesso saranno 1 più l'arco quindi abbiamo 2 da questa parte 3 da questa parte 9 da questa parte e diciamo se la distanza che abbiamo trovato per andare di là è minore della distanza minima che abbiamo trovato finora allora facciamo push beh di qua non è vero perché 2 perché è 1 più 1 2 non è minore di 0 e quindi questo il cammino che fa 0 1 0 non lo reinseriamo praticamente ma anche perché sarebbe stupido in effetti poi verso 2 invece fa 3 3 è minore di infinito? sì cavolo allora ci mettiamo un bel 3 2 9 è minore di infinito? sì allora ci mettiamo un bel 9 4 e abbiamo finito questa iterazione e devo usare una gomma più piccola e questo è andato e abbiamo aggiunto tutti i vicini di 1 quelli che miglioravano la distanza minima verso il nodo in cui andavano chi sarà il prossimo estratto? beh a questo punto il prossimo estratto non è se fosse stato una fifo sarebbe stato 4 2 ma questa è una min priority queue non è una fifo queue cioè una queue normale e quindi è 3 2 l'elemento che estraiamo perché infatti fare questo percorso qua per arrivare a 2 è minore che passare solo per un arco e fare questo 4 è meglio fare 1 2 per arrivare a 2 che non fare 4 allora cosa facciamo? ci chiediamo la distanza maggiore uguale di infinito beh no allora niente continuo e quello che facciamo è che ci assegniamo quindi a 2 3 che è la distanza che abbiamo trovato e ora dobbiamo fare la cosa su tutti quanti vicini i vicini sono 0 1 e 3 0 la somma sarà 4 più 3 che fa 7 e non conviene perché in 0 abbiamo già trovato una cosa che fa 0 quindi non è minore e quindi non entra andare verso 1 ci costerà 3 più 2 che fa 5 ma abbiamo trovato già 1 per 1 quindi abbiamo già trovato una distanza 1 per il nodo 1 quindi non ci conviene infatti questo if non ce lo fa fare ultimo nodo 3 3 attualmente sono infinito quindi ovviamente ci va bene e quindi fa 3 più 1 4 quindi aggiungiamo 4 3 se ci sono passaggi che non capite mi raccomando fermatemi e abbiamo finito 3 2 ok domanda 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 qual è il prossimo qual è il prossimo elemento che adesso estraiamo dalla priority queue 4 2 4 2 perché è la coppia minore perfetto estraiamo 4 2 4 è maggiore o uguale a D D2 sì cavolo perché D2 è 3 e 4 è maggiore o uguale a 3 quindi non ci conviene calcolare questo percorso allora lo scrippiamo continuo non facciamo tutta questa cosa qua andiamo al prossimo e questo viene eliminato così bene qual è la prossima coppia beh 4 3 palesemente 4 è maggiore o uguale a infinito no allora questo è distanza 4 ok i vicini quali sono di 3 c'è 2 e c'è 4 la distanza dell'avvento che era 4 quindi 4 più 1 fa 5 però in 2 c'era già 3 quindi non lo aggiungiamo in 4 c'è infinito quindi sì che lo aggiungiamo quindi sarà 4 più 2 6 4 e abbiamo finito i vicini e quindi via ora il prossimo sarà 6 4 6 maggiore o uguale a infinito no quindi mettiamo 6 tutti i vicini in realtà vediamo che 6 più 8 non è migliore di questo 6 più 7 non è migliore di questo 6 più 2 non è migliore di questo quindi non aggiunge nessuno finisce questa iterazione ok abbiamo l'ultimo lo estraiamo 9 è maggiore o uguale a 6 sì e allora niente continuo e siamo arrivati che abbiamo la coda vuota adesso la coda è il nulla allora abbiamo finito l'algoritmo e nel vettore D ci sono le distanze minime dal nodo sorgente da S a tutti quanti gli altri nodi questo è come funziona Dijkstra quindi prima domanda è chiaro come funziona perlomeno cioè il concetto generale di come sta funzionando più o meno me la dovrei riguardare un pochino ok il concetto fondamentale è che noi ci teniamo questo vettore della minima distanza che abbiamo trovato finora che inizialmente è infinito e poi comunque riguardatevela con più calma perché ora che stiamo cominciando a fare algoritmi veri cioè algoritmi che non sono banalissimi quindi ci sta non non comprendere il primo colpo e quello che facciamo è che continuiamo a estrarre in ordine dalla coda di colorità minima questi percorsi che stiamo creando li consideriamo solamente se sono migliori dei percorsi che abbiamo già trovato altrimenti li scartiamo e poi proviamo a creare altri percorsi a partire da quel nodo in cui siamo arrivati attaccando fondamentalmente gli acchi in uscita di quel nodo e li aggiungiamo alla coda solo se ci creano percorsi migliori per i nodi verso cui stiamo andando e andiamo avanti così finché non abbiamo esaurito la coda alla fine in D ci saranno le distanze minime verso tutti quanti i nodi a partire da la sorgente ora le due domande che ci dobbiamo fare sono anzi l'unica domanda in realtà due domande le domande che ci dobbiamo fare sono quanto ci costa quant'è la complessità di questo algoritmo prima domanda seconda domanda è come facciamo se a noi non ci interessasse solo sapere quanto è lungo il percorso minimo ma anche qual è come facciamo allora anzi cancelliamo il grafo allora rispondiamo queste due domande quindi quanto ci costa questo algoritmo quanto quanto tempo ci mette e poi quanto come facciamo a ricostruire la soluzione allora quanto ci costa lo possiamo vedere in questo modo beh quanto ci costa sarà quante volte facciamo questo ciclo ok e quanto ci costa fare una singola quante volte facciamo questo ciclo e quanto ci costa fare una singola iterazione di questo ciclo ora l'analisi non è banalissima quindi molto semplificata molto molto semplificata il numero di volte che faremo il ciclo vi dico che è uno grande di m ok facciamo per allora per essere precisi questo qua stiamo assumendo che sia un binary che è quello che abbiamo visto questo qua è un binary allora il numero di volte che facciamo il ciclo è uno grande di m quanto ci costa fare un'operazione qua dentro vi dico che è uno grande del logaritmo di n più m ok che in realtà se vogliamo essere un po' più laschi in realtà il logaritmo di n più m è un logaritmo di n ma ripeto l'analisi non è semplicissima di questo algoritmo quindi per semplificare all'osso diciamo che dentro ci mette uno grande di log n che è vero è comunque vero cioè sto semplificando ma sto dicendo cose vere ok e quindi se il ciclo se il numero di volte che dobbiamo entrare nel while è uno grande di m e ogni volta questa cosa ci costa uno grande di log n beh questo algoritmo ci costerà m per log n questo è il costo computazionale dell'algoritmo di Dijkstra usando una min priority queue che è un binary heap ok quindi beh sicuramente meglio dell'algoritmo che avevamo prima che non funzionava sempre ed era uno grande di m più n più k dove k poteva essere un numero straordinariamente grosso perché hanno impesi degli archi qua invece siamo riusciti a levare il k adesso ci interessa solamente quanto è grosso il grafo e ci mettiamo il numero di archi per il logaritmo del numero di nodi che è una cosa molto molto buona in realtà vi dico che si può fare leggermente meglio di così in realtà si può scendere addirittura a o grande di n log n che è meglio perché il numero di nodi è di solito il minore del numero di archi quindi possiamo scendere addirittura n log n se invece di usare una min priority queue con un binary heap si usa una min priority queue con un'altra cosa che si chiama un fibonacci heap che però è una struttura dati che è difficile in modo allucinante e infatti di solito non lo usa mai nessuno per fare l'algoritmo di DAX se si implementa con un binary heap però volevo dirvi a un'ora della cronaca che si può scendere da m log n e da n log n usando un fibonacci heap invece di un binary heap ma nella pratica si usa sempre 100% delle volte un binary heap ok quindi questo era il discorso sulla complessità in realtà l'unica cosa interessante da ricordarsi è che DAX gira in o grande di m log n quindi quando poi dovete fare i calcoli per sapere quanto tempo ci mette il vostro algoritmo il fattore è un m log n quindi ci mettete dentro i numeri e avete il vostro tempo impiegato l'ultima domanda che ci facciamo per oggi è ma se io volessi ricostruirla la soluzione allora c'è un modo per ricostruire la soluzione di DAX ma anche che funziona uguale per l'algoritmo dei percorsi minimi del grafo semplice che è questa oltre a tenerci un vettore delle distanze minime ci teniamo ci teniamo un vettore p inizialmente inizializzato con meno uno ok p sta per parent ovvero diciamo che è il padre ok poi vediamo cosa vuol dire esattamente dove meno uno è un valore speciale che ci dice non ha un padre è orfano cosa vogliamo fare vogliamo che quando noi creiamo un nuovo percorso minimo ok quando stiamo aggiungendo una cosa che è un percorso minimo quindi in questo step diciamo da dove siamo arrivati ovvero la prima cosa che dobbiamo cambiare è che qua ok vogliamo dire che per arrivare in v siamo passati da v vogliamo dire chi è il padre di v nel cammino minimo da s al nodo finale ovvero se mentre stiamo andando per arrivare in v siamo passati da v e così via ci va in realtà questa informazione è sufficiente per ora cerco di fare il cerco di fare un grafo ok facciamo che il grafo è questo questa informazione ci è sufficiente per ricostruire qual è il percorso minimo facciamo ad esempio che questo arco pesa 1 questo arco pesa 2 questo arco pesa 1 questo arco pesa 5 questo arco pesa 4 questo pesa 2 e questo pesa 2 ok qua è banale vedere che il percorso minimo ora faccio anche l'indice dei nodi 0 1 2 3 e 4 ok quindi vogliamo andare da 0 a 3 poi è banale vedere che il percorso minimo sarà 0 2 1 3 che fa 4 in totale allora se adesso eseguiamo questo algoritmo così leggermente modificato ovvero abbiamo aggiunto solo questo p inizializzato a meno 1 e abbiamo aggiunto questa unica istruzione qua che quando mettiamo una cosa in coda diciamo che p di quello che ci stiamo agganciando è uguale a quello da cui siamo partiti cosa succederà? che avremo le distanze che saranno quindi 1 2 3 4 ok sì perché 0 1 2 3 4 e avremo i parent ok che è un altro vettore di questa lunghezza 0 1 2 3 4 d che non c'è nulla è infinito p che non c'è nulla meno 1 ora senza andare a simulare tutto quanto cosa succederà? che in 0 ci sarà meno 1 in e qua ci sarà 0 in 2 ok il percorso minimo è questo quindi ci sarà 1 e il parent sarà 0 perché per arrivare qua siamo partiti da 0 in 1 il percorso minimo passerà da qua quindi la distanza sarà 3 e il parent sarà 2 perché per arrivare qua siamo partiti a questo arco di 2 per 3 sarà la distanza 4 e il parent 1 e per 4 sarà il la distanza minima sarà 3 e il parent sarà 2 ok questo sarà lo stato finale adesso l'ho simulato molto in fretta ora utilizzando queste informazioni possiamo facilmente con con il l'aiuto di uno stack ok ritrovare qual è il percorso minimo oltre a saperne il valore il valore sappiamo che è 4 allora cosa facciamo allora cominciamo mettendo sullo stack quindi facciamo uno stack che cresce verso l'alto ok mettiamo sullo stack il nodo di arrivo che è 3 ok adesso guardiamo che è il il top dello stack quindi che è il primo elemento dello stack quello più in alto e mettiamo sullo stack il valore del padre di quel nodo quindi abbiamo 3 il padre di 3 è 1 e ci mettiamo 1 rifacciamo 1 che è il top dello stack è l'elemento più in alto sullo stack guardiamo che è il padre di 1 2 e lo mettiamo sullo stack ancora che è il padre di 2 1 perdono che è il padre di 2 0 e allora mettiamo 0 sullo stack e continuiamo a fare questo finché il padre dell'elemento top dello stack non è meno 1 quando ci fermiamo quindi quando siamo arrivati all'origine che è l'unico elemento che non ha un padre a questo punto per trovare il percorso minimo basta che facciamo pop dello stack cioè praticamente il percorso sarà dato da questi elementi in quest'ordine quindi l'ordine di pop dello stack infatti il percorso minimo qua ci sta dicendo ed è la verità rifaccio questa q perché l'ho distrutta povera q il percorso minimo sarà 0 quindi facciamolo in rosso sarà 0 ok che è questo poi andrà a 2 ok che è questo poi andrà a 1 che è questo e poi andrà a 3 che è questo quindi per ricostruire il percorso minimo quello che facciamo è che ci teniamo questo vettore dei padri ok che quando facciamo l'operazione di di inserimento in coda ci segniamo per andare in quel node da chi siamo partiti ok alla fine partiamo dal nodo di arrivo ok li mettiamo su uno stack lo mettiamo su uno stack e poi ogni volta mettiamo sullo stack il padre di quell'elemento finché non arriviamo all'elemento sorgente che avrà il padre e lo riconosciamo perché sarà quello che ha il padre a meno 1 una volta fatto ciò per trovare il percorso minimo ok per calcolare qual è il percorso minimo non solo il valore facciamo pop dallo stack degli elementi uno a uno e quello è il percorso minimo ok ha un senso quello che ho detto ci sono domande? Stefano C? no questa cosa è abbastanza chiara è abbastanza chiara Stefano S? si no io qui non ho domande ho capito ok perfetto e questa cosa uguale si può applicare anche a anche agli percorsi minimi sul grafo semplice ok per oggi abbiamo finito grazie a tutti grazie a tutti